Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e signori e oggi facciamo un piccolo cambiamento sulla solita programmazione, ovvero oggi e giovedì sarebbe dovuto uscire Minecraft, ma invece facciamo un tentativo signori, portiamo un episodio di Brawl Stars, gioco al quale io ho giocato tanto tempo fa, avevo anche iniziato fatto delle serie, ma che purtroppo poi ho sospeso e adesso ho riniziato da capo signori. Allora, io purtroppo, come sto dicendo, ho riniziato da capo, ho giocato un pochino off camera e diciamo che qualche obiettivo già ce lo siamo portati a casa, abbiamo sbloccato qualche Brawl, abbiamo Shelly, Nita è il primo, che possiamo migliorare ma per ora li lasciamo così come sono, abbiamo sbloccato un discorso di sopravvivenza e football, che non mi ricordo neanche tanto come si giochi, abbiamo due serie di vittorie perché, ripeto, stiamo giocando un attimino da solo, abbiamo le missioni, che sono vinci tre battaglie e sconfiggi nove nemici in un football brawl o sopravvivenza, quindi questo ora ci proveremo, siamo a 75 trofei, è una soglia di 6, che non so cosa voglio significare, e abbiamo 79 experience su 200, quindi signori proviamo, proviamo, proviamo. Prima di partire il video però io vi ringrazio per i like, per i commenti e per il supporto, e vi ricordo soprattutto di iscrivervi al canale e fatemi sapere sotto nei commenti se ogni giovedì vi può piacere vedere un video di Brawl Stars. Signori, allora io devo un attimino riprenderci la mano, sono su PC, sono su PC e devo un attimino riprenderci la mano perché non sono ancora ritornato a dei buoni livelli. Abbiamo soprattutto qualche problema di linea, allora come cazzo si sparava così, infatti vedete già mi è rimasto un proiettile sospeso, questo non sta bene da rompere le scatole qui, quindi velocemente lo facciamo fuori, lui ha molta più vita di me, e questa cosa non va bene, e si nota benissimo che ha molta più vita di me, e infatti siamo subito morti signori, porca miseria, porca miseria, ci ha annientato come niente, va bene, va bene, ma come si dice, dobbiamo fare tante, tante, tanti tentativi signori, tanti video, tanti tentativi per cercare di, due trofecce li siamo portati a casa, di migliorare la situazione, di migliorare la situazione, ma non ci scoraggiamo, non ci scoraggiamo, non ci scoraggiamo, cerchiamo di ottenere qualcosa, perché le vittorie sono riuscite a portarla a casa, non chiedetemi come ho fatto perché non me lo ricordo manco io, qua c'è l'uomo, no 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 no, recuperiamo vita, recuperiamo vita, calma, sempre problemi di wifi, ma non è un problema, questo sta a tirare le bottiglie da lontano, ma noi lo ammazziamo male signori, dai così, almeno uno siamo riusciti a ammazzarlo, dai, soddisfazioni, soddisfazioni, almeno uno siamo riusciti a ammazzarlo, ci portiamo a casa questa cassa, io direi di sì, io direi di sì, che c'è una bellissima join, ma che fa piacere, quello chi cazzarola è? Qualcuno che vuole morire, che si è nascosto di sotto perché vuole sopravvivere, ma noi lo ammazziamo male signori, aia, esci, fatti vedere se hai coraggio, aia, 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 no signori il wifi mi ha tradito, niente, problema di wifi e siamo morti male signori, problema di wifi e siamo morti male, però siamo arrivati terzi, dai, siamo migliorati, rispetto a prima siamo migliorati, oh, sconfiggi nove nemici, vinci tre battaglie, Va bene, noi non lo accettiamo, ci ha dato qualcosa, però va bene, non so perché, oh, probabilità di miglioramento, dai così, se fai quello che vuoi, mitico addirittura, oh, 500 monete, oh, un altro, bello così, epico addirittura, altre 200 monete, che c'è, famo, nulla, possiamo migliorare Shelly, miglioriamo Shelly, signori, dai così, se Shelly, shelly, gadget disponibili, gadget, un'abilità aggiuntiva per il, per il brower, il brower sbloccano lo slot dei gadget a livello set, ognuno di loro ha dei gadget unici, usa il gadget equipaggiato fino a tre volte in un combattimento, ok, Mille monete, turbo stivali, e chi ce l'ha a mille monete, zia, possiamo anche cambiarla di vestito, no, mi tengo, ce la Shelly normale, grazie, grazie, gentilissimo, tutto bellissimo, tutto bellissimo, torniamo a giocare con Shelly, signori, vai, altro giro, altra corsa, signori, altro giro, altra corsa, Mi ha tradito un attimo il, il wifi, porca miseria, perché erano partiti, uno l'avevamo riuscito, uno l'avevamo riuscito, uno l'avevamo riuscito a batterlo, e invece, invece, questo wifi che ogni tanto salta, allora, stiamo cambiando, così Dai, dai, battiamo Cicerito lì, battiamo Cicerito, ti batto male, l'abbiamo battuto? Sì, l'abbiamo battuto, signori, allora, intanto ci portiamo a casa questa cassa, che non è niente male, e poi direi di portarci a casa pure questa cassa, che anche questa non è niente male Siamo rimasti in 5 Proviamo ad andare su, mamma mia, la c'è ne è uno troppo forte, recuperiamo, addirittura, recuperiamo tutte queste bellissime punti di energia che non sono Attenzione, 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 pericolo, 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 siamo senza vita, pericolo, pericolo, pericolo E la lui c'è 9000 di vita, dai, che cazzo è la Steddy, dai, che cazzo è la Steddy Ma l'abbiamo ammazzato? Non ci ho capito nulla, signori, mi è saltato un attimo la connessione No, è lì, porca miseria, altro che cavolo l'abbiamo ammazzato, ci sta per ammazzare lui male Via, via, veloce, 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 veloce Sparisci, sparisci Siamo rimasti in 3 Qualcuno l'ammazza lì, il Mamma mia, è un mostro, signori Decisamente troppo, 13000 di vita Noi siamo a malapena 8000 Là c'è un altro con 7000 Lui lo potremmo però battere, lui lo possiamo Battere, scontro finale, l'abbiamo battuto No, nooo, come scontro finale? Siamo arrivati i secondi, ma scusa, quello com'è morto? Non lo so, non fatemi domande che non ho capito quello com'è morto Serie di vittorie 2, lui continua a darmi serie di vittorie Però va bene, sconvingi, 9000 mi dici Va bene, va bene Ci portiamo delle coppe di là Punti esperienza non me ne dà più Perché non mi dà più punti esperienza? Forse non li vedo io Sono scioccato io, signori Dai, 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 dai Continuiamo, continuiamo Continuiamo come se non ci fossero domani Dai, 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 dai Ovviamente, signori, nei commenti Fatemi sapere se questi Eventualmente, se una volta a settimana il giovedì vi può far piacere Giocare a Brawl Stars O meglio, giocare a Brawl Stars Vedere i video di Brawl Stars Ammazzalo male, porca miseria Dai così L'abbiamo ammazzato? Sì, penso proprio di sì L'abbiamo fatto schioppare male Brawl rimanente i 6 Recuperiamo la gemmina Che tanta roba Quello c'ha 10.000 di vita E lui ne ha 6.000 Lui lo possiamo fare fuori, signori Lui lo possiamo fare fuori Lui lo possiamo fare fuori E l'abbiamo fatto fuori Allora, il lì Zio non lo possiamo fare fuori minimamente Perché a parte doveva recuperare un attimino la vita Siamo arrivati in tre, signori Siamo arrivati in tre La nube tossica sta avanzando Siamo arrivati in tre Io vado a pascolare per le montagne Perché giustamente voglio un attimino Aspettare Prendiamola da lontano Prendiamola da lontano Bello così 9.000 Non ho più vita Non ho più vita Azzarola Come picchia male però Daglie così L'hai sentito tutto zio Daglie così Scontro finale Ok Ne abbiamo ammazzato i due Signori Ne abbiamo ammazzato i due Scontro finale Mi piacerebbe sapere dove è il tizio 9.000 di vita 9.000 di vita Ti aspetta il varco Ti aspetta il varco Abbiamo vinto, signori Vittoria Daglie così La nostra Shelly La nostra Shelly si porta a casa Una grande vittoria Bello, bello, bello Dai così Grande Shelly Serie di vittoria E tre consecutive Boh Ok Abbiamo vinto Vinci tre battaglie Tanti punti Bell'esperienza Sconviggi 9.000 di nemici Ce ne bastano altri due Per fare l'obiettivo Signori Dai così Ok Tanti punti Esperienza Che vanno da quel lato Arriviamo a 1.500 Nuovo evento sbloccato Aspetta Andiamo di qua Nuovo evento Ah Afferma gemme Questo me lo ricordo Questo mi ci divertivo un sacco Con afferra gemme Afferra gemme lo facciamo nel prossimo video Signori Dobbiamo andare A ammazzare altri due Altri due Altri due Mostriciattoli Dobbiamo ammazzare Signori Altri due mostriciattoli Altri due mostriciattoli Per portarci a casa Un altro Obiettivo Degli obiettivi stagionali Dai così Dai così Dai così Ti voglio carico Dai Shelly Dai Shelly Quanto c'ha questa qua di vita 6.000 Ma sei ridicola 6.000 di vita Ma stai dicendo veramente Dai così Questa gemme L'abbiamo portata a casa Dai Dai Carica tutta la vita Intanto uno Già l'abbiamo ucciso E questa è già tanta roba Uno già L'abbiamo ammazzato male E questa è già tanta roba Quello c'ha solo 6.000 di vita Lo possiamo fare fuori velocemente Senza neanche pensarci troppo Zio vieni qua Che sei morto tanto E mi devi far conquistare Sì il trofeo signori L'abbiamo conquistato Dobbiamo ammazzati 2 Ce ne mancavano 2 Per fare gli obiettivi Gli obiettivi Di missione Siamo rimasti in 4 Siamo rimasti in 2 Scontro finale signori Scontro finale Scontro finale Dai che voglio la seconda Dai che voglio la vittoria Dai che voglio la vittoria Dai che voglio la vittoria Dove stai Dove ti nascondi Fatti vedere Ti vengo a cercare Ti vengo a cercare Dove sei? Dov'è? Dov'è? Guarda se muori dalla nuve tossica Mi fa un piacere Sai? Dove sei? Dove sei ciccio? Fatti vedere ciccio Ciccio Do stai? Continuiamo ad avere problemi di wifi Signori ma 11.000 di vita C'ha? 11.000 di vita Porca miseria 11.000 di vita Ma lo facciamo fuori Come se non ci fosse un domani Signori Dai così Altra vittoria Portata a casa Scelli non perdona Signora Scelli non perdona Porca miseria Scelli non perdona Abbiamo sconfitto 9 Dai Perché Xp generi esauriti Come dici tu Non mi vuole dare più Punti di esperienza Però ci portiamo a casa Dalle coppe Ah no Punti di esperienza Ce li portiamo a casa E le aggiungiamo 164 su 200 Ok Missioni cortesemente Scusami zio Ehm Mi le ha dati però I trofei missioni Sì Ricompense Dammi qua zio Non ci perdere tempo Dammi qua zio Non ci perdere tempo Altre monete Posso migliorare Scelli? Ho così un dubbio No Non posso migliorare Scelli Mi servono 340 punti energia Che in questo momento Forse non ho Va bene signori Detto questo Io per questo video Mi fermo qui Fatemi sapere Se vi può interessare Giovedì prossimo Uscirà un altro video Di Brostas Così avrò il tempo Un attimo Di valutare la situazione E niente signori Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Se vi può piacere O se torniamo Su minecraft O su qualche altro gioco Detto questo signori Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo obiettivo Obiettivo? Per un prossimo video Bella raga Ciao 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 Grazie.